Ringraziamo i delfini! Betty, Roby, Teide, Tau e la piccola Mia! Ringraziamo con loro anche tutto il nostro timo e tutto il timo che ha curato il timo! Grazie, Cristina, è superato la gara! Ora vai pure nella nostra sede! Abbiamo fatto questo gioco per farvi vedere come gli delfini utilizzano tutti questi denti! Loro si nutrono di pesci e calamari che però non masticano ma ingolano interi, però la bocca serve solo per mangiare! Tutti i suoni invece vengono messi dallo sfiatatore e sono fondamentali per la loro vita sociale! Signori facciamo un attimo di silenzio! Ascoltiamoli! Brava Cristina, mi nomina assistente e addestratore! Vai pure con la nostra Betty! Grazie! 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 Grazie mille! Grazie a tutti! A termine del nostro viaggio non tutti insaporiamo che